Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, giovedì 12 aprile, che giorno è oggi? Giovedì 13 aprile, scusatemi. Da Parigi, anzi dalla stanza d'albergo, vi dico quali sono le notizie fondamentali della giornata. La cosa che più mi fa arrabbiare è quella da cui partirò, ed è la seguente. New York Times di oggi. Il New York Times di oggi, dovete vedere la prima pagina sul New York Times di oggi. Allora, eccola qua. In Italy, a discovery of slavery. In Italia una scoperta di schiafismo. Porca miseria, porca miseria. Una di voi mi ha detto non dire più parolacce, fa bene, porca miseria. In Italia una scoperta di schiavismo. Leggete il pezzo di San Giorgio Ionico, di Gaia Pianigiani, e vi rendete conto come New York Times, proprio ieri, con l'osservatorio inutile di Ceccherini, quello là che si vedono tutti i giornali a Firenze, insomma, quella di roba inutile là, hanno, in New York Times, con Wall Street Journal, eccetera, hanno fatto un osservatorio contro le fake news. Ecco, quando il New York Times in prima pagina dice che in Italia c'è lo schiavismo, questa si chiama fake news. Una signora è morta nelle campagne pugliesi per un attacco di cuore, veniva pagata 27 euro, secondo la ricostruzione lavorava 12 ore, e certamente è un disastro, è certamente una cosa abiasimevole, certamente siamo contrari all'utilizzo delle persone in questa maniera. C'è un morto sul lavoro. Poi viene trovato il giornalista ad hoc che dice che siamo indietro in una situazione degli anni 50. Allora, io mi chiedo, se in Italia c'è lo schiavismo perché hanno trovato qualche lavoratore che viene utilizzato in maniera irregolare e viene sfruttata, cosa devo pensare io rispetto all'utilizzo dei messicani negli Stati Uniti? Cosa devo pensare io rispetto all'utilizzo degli immigrati in molti dei paesi europei in cui questi immigrati fanno lavori? Cosa devo pensare io dell'utilizzo del lavoro nero negli Stati Uniti e degli 8-10 milioni di persone che lavorano negli Stati Uniti senza permesso di soggiorno? Perché? Perché io mi devo prendere dal New York Times, il giornale che fa la morale delle mie scatole, un pezzo in Italia, Discovery o Slavery? Tra l'altro i nostri amici italiani che contribuiscono a questo tipo di fama si trovano poi nel pezzo di un giornalista italiano, della Gaia, Pianigiani, che bello, no? No, noi non siamo per le fake news, noi denunciamo lo schiavismo italiano. Cosa dicono? E' questo il punto. Dicono per un paese, l'Italia, sta parlando dello schiavismo che ci sarebbe nell'agricoltura, per un paese in Italia è molto noto per i suoi prodotti in giro per il mondo. Eccola là, eccola là, no? Noi siamo schiavisti e con quello schiavismo portiamo in giro per il mondo i nostri prodotti. Noi? Non l'Apple che avete in mano voi, che è stato fatto da una fabbrica cinese in cui Apple della Silicon Valley, con i diritti dei gay, dei cactus, dei me, dei biondi, dei bianchi, dei viola, bene, rivendica tutti i diritti per la Silicon Valley e poi si fa fare i cellulari nella fabbrica cinese dove non viene rispettato nessuno standard, nessuno standard di convivenza civile. I nostri prodotti girano per il mondo, scrive la giornalista italiana sul New York Times, grazie allo schiavismo. Vi rendete conto? Questo è fake news. Fake news. Perché non hanno fatto un pezzo quelli dei New York Times dicendo la follia di togliere i voucher in Italia che erano invece uno strumento per mantenere? Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo sull'altra questione di giornale. Mi fa venire il sangue al cervello vedere in prima pagina a Parigi l'idea che noi siamo un popolo di schiavisti. Per un caso grave, gravissimo, da denunciare, da mettere in galera chi l'ha fatto, nulla toglie al fatto che ci sia un cross da cadire. Ma rendere questo generale, questo si chiama fake news, il giornale che non ha capito che Trump avrebbe vinto negli Stati Uniti. E grazie al cielo quel giornalismo se lo leggono in pochi. Io purtroppo ancora lo faccio per voi. L'altra cosa che mi fa venire il sangue al cervello, no, non me lo fa venire, è la battuta di Di Maio che dice abbiamo importato il 40% dei loro criminali dalla Romania. E Gramellini oggi, cos'altro vi potete aspettare sul Corriere della Sera, fa un mazzo così a Di Maio dicendo delle cose tremende su Di Maio con il solito tono di quello che c'ha la ragione e quindi può andare in quel paese invece il cattivo Di Maio. Pensate che io possa difendere Di Maio? Beh, è difficile che io possa difendere uno del Movimento 5 Stelle, sapete bene come la penso, i mentecatti, diciamo, ultra che mi seguono del Movimento 5 Stelle, mentecatti, non tutti i votanti del Movimento 5 Stelle perché il 30% degli italiani non è mentecatto, ma ci sono dei mentecatti che seguono il Movimento 5 Stelle e che continuano a insultarmi. Non mi rivolgo a loro, mi rivolgo alle persone normali che ci seguono, che votano il Movimento 5 Stelle, Forza Italia, PD, votano quello che vogliono ma che gli piace la zuppa di porro. Allora, quello che vi volevo dire è che io non sono certamente un favore del Movimento 5 Stelle ma meno di me e favore del Movimento 5 Stelle è Filippo Facci, anzi siamo sulla stessa linea. Se oggi leggete Filippo Facci capite ancora un'altra volta le fake news che riguardano non soltanto lo schiavismo italiano ma la costruzione di questa cosa di Di Maio. Di Maio ha detto che il 40% dei delinquenti romeni viene in Italia, ma dice Facci sbagliano a criticarlo perché ha detto una cosa vera e cioè chi è che ha detto questa cosa? L'ha detto al convegno di Ivrea il magistrato che hanno invitato in carica, che si chiama Ardita che hanno invitato il Movimento 5 Stelle il quale magistrato si riferisce aperte virgolette, mi sembra chiuse virgolette, al ministro degli interni romeno che avrebbe detto questa cosa. In realtà poi dice Facci non ci voleva molto per scoprire che non era il ministro degli interni romeno aver detto questa cosa ma era il ministro della giustizia e non riguarda il 40% dei romeni ma che dice sono indagati non che sono delinquenti quindi il garantismo dice che non è detto che siano delinquenti gli indagati però il punto fondamentale che dice Facci Di Maio quando ha detto quel 40% non ha detto una cavolata ha detto una cosa che gli ha detto un magistrato il quale magistrato ha riportato una cosa che ha detto il ministro non della giustizia ma degli interni romeno quindi caro Gramellini e cari tanti tutti che state lì tutti quanti a fare la puzzetta sotto al naso quello che ha detto Di Maio vi può stare più o meno simpatico non è colpa di Di Maio in primis e in secondis non è del tutto falso vuol dire che i rumeni sono dei delinquenti no chiunque conosca i rumeni in questo paese nel nostro paese sa che i rumeni si fanno un mazzo così se non ci fossero i rumeni non ci sarebbero molte badanti ma molti lavoratori che fanno lavori che gli italiani non vogliono Di Maio ha detto una cosa ragionevole che non riguarda la Romania non riguarda i rumeni riguarda una parte di rumeni delinquenti con una parte di italiani delinquenti e non vuol dire che la Romania è fatta di delinquenti non vuol dire che l'Italia è fatta di schiavisti se c'è uno schiavista è un delinquente se c'è un rumeno delinquente è un delinquente che la loro grande quantità ce ne sia in Italia lo dice lo stesso ministro degli interni quindi tutti contro Di Maio ma in questo caso dice Facci non ha detto una cosa assurda a proposito di cose che riguardano i momenti 5 stelle e assurde divertentissima la cosa della manifestazione alla Camera con un team di antivaccinisti che ha fatto un gran casino oggi si incontrano alla Camera e sono organizzati da un ex Movimento 5 Stelle che adesso è entrato nel partito di D'Alema e Bersani ben gli sta là dovranno andare a finire contro i complotti con i vaccini critiche da parte di tutti sulla questione Consip beh la storia è molto divertente come sapete un carabiniere ha cambiato avrebbe cambiato una intercettazione e avrebbe detto siamo seguiti dei servizi segreti nonostante si legge oggi sui giornali 9 diversi indizi gli abbiano fatto capire che non era vero che erano servizi gli uomini di Woodcock dei servizi segreti era tutta un'invenzione che si erano fatti una loro pippa mentale questo c'è scritto oggi sui giornali e due carabinieri ben due carabinieri smentirebbero il carabiniero indagato che pensava di essere ed era ossessionato da un interesse dei servizi segreti rispetto all'inchiesta che stavano facendo su Renzi tutte palle era una sua invenzione Woodcock oggi intervistato anche se non si dice mai che è un'intervista perché ci sono tre virgolettati anzi nell'articolo della Repubblica si dice Woodcock non parla mai con giornalisti non ha mai fatto un'intervista non la troverete mai in un archivio di un giornale ma comunque qualche dichiarazione su Adisono intervista la fa e a Repubblica dice si tratta di un grave errore ma non c'è nessun complotto massima stima di Woodcock nei confronti della procura di Roma se va bene il fatto dice che Renzi mente in televisione è andato ieri in televisione perché sostanzialmente avrebbe una piccola cosa rispetto a cose giudiziarie di cui veramente non me ne fotte nulla e neanche a voi ma la cosa più divertente in effetti che dice Travaglio nel suo fondo dice ma ragazzi ma com'è possibile che voi siete garantisti su tutti ma non siete garantisti sul capitano che avrebbe sbagliato a scrivere questa trascrizione delle intercettazioni com'è garantismo vale per i politici vale per Romeo vale per tutti ma non per quel capitano che è già diventato un delinquente sui vostri giornali la risposta gliela do io a Travaglio che i giornali italiani non sono garantisti nei confronti di nessuno arrivano all'ultimo spizzicone delle indagini l'ultima cosa che dice il procuratore i giornalisti italiani se la magnano e non se la ruminano neanche quello che gli dicono le procure l'ultima procura è quella che comanda poi vi ho detto poi Dortmund è la pista islamica ma non è detto che ci sia veramente una pista islamica è tutto da vedere insomma brancolano come si suol dire nel buio gli inquirenti la frase fatta tipica dei giornali come per Igor nella bassa padana così anche per Dortmund gli inquirenti brancolano nel buio non si riesce a capire che cosa ci sia oggi sul giornale la celebrazione di 31 anni di Milan l'unico giornale che mi sembra dei generalisti che fa un fondo sul fatto che Berlusconi veramente questa volta il Milan l'ha ceduto ai cinesi staremo a vedere vado avanti con altre notizie veloci il DEF un documento economico e finanziario l'unico pezzo che vale la pena di leggere oggi è quello di Enrico Marro sul Corriere della Sera che è il fondo del Corriere della Sera il DEF è finto è sempre finto vi racconta i soldi che vengono a prendere le nostre tasche ma quei soldi dice Marro non si possono prevedere con 7 mesi d'anticipo e il DEF è sempre un libretto dei sogni o giusto sbagliato che sia ma dei sogni tale è tant'è che l'entità Repubblica dice 35 miliardi perché si deve disinnescare l'aumento dell'IVA il sole 24 ore dice 17-18 miliardi una cosa è certa in questo documento economico e finanziario una cosa non si prevede è la riduzione delle tasse sul reddito delle persone fisiche che Renzi aveva promesso sarebbe avvenuto nel 2018 niente riduzione delle tasse sulle persone fisiche del 2018 anzi ve lo dico io garantito che ci sarà qualche tassina in più tipo quelle che riguardano le cosiddette deduzioni fiscali detrazioni fiscali che vedrete qualche giornale oggi dice che saranno modulate sul reddito ve la faccio semplice meno detrazioni fiscali e quindi più tasse da pagare nel 2018 d'altronde se si vuole evitare l'aumento dell'IVA la strada e si vuole anche ridurre il deficit all'1,2% la strada non può che essere quella ciao ci vediamo domani ciao ciao ciao